per me la piscina deve essere a sfioro voglio essere sincero l'unico dubbio che io avevo perché qualcuna da qualche amico o nipote che lui la sfioro vedevo qualche difficoltà con la vasca in cemento a gestire la regolazione dei livelli la preoccupazione mia è che in un terreno come questo in una zona sismica quindi eventuali scosse di terremoto roba del genere io avevo sempre la preoccupazione che si potesse muove il terreno e quindi lo sfioro andasse un po a farsi benedire quando per francesco mi ha documentato con la possibilità di fare le pareti esterne della vasca in acciaio doppia parete quindi registrabili e qui a me ma assolto tutti i dubbi che avevo perché con la registrazione sapevo di poter tenere il livello perfettamente in ordine in più questa possibilità ha di vantaggio che tutta diciamo l'impiantistica è spezionabile quindi per me è stato è stata una soddisfazione non conoscevo come tecnologia poterla conoscere ma risolto il dubbio che avevo perché io ho detto prima la piscina per me è a sfioro